Signal, l'app per chat che sfida Whatsapp. Sono milioni le persone che stanno migrando da Whatsapp, controllata da Facebook ad app alternative come Telegram e Signal. Ma cosa è Signal? È una piattaforma di messaggistica cifrata creata nel 2014 dalla società non-profit OpenWhisper. La caratteristica più rilevante di Signal è quella di non trattenere in alcun modo i dati personali degli utenti e cripta ogni chat con chiavi libere, trasparenti e verificabili. Chiunque decida di fare il salto da Whatsapp a Signal deve sapere che a fronte di un'evidente chiarezza sul non uso dei dati personali, a Signal mancano un po' di funzionalità di Whatsapp che assomigliano alle funzionalità dei social media, come per esempio le Stories. Ciò rende Signal sono un'esperienza di comunicazione pura. Si può naturalmente arricchire le conversazioni con tutto ciò che è multimediale, foto, audio, video, vocali, così come è più semplice l'utilizzo dell'app su desktop e su tablet, funzionalità su cui Whatsapp rimane ostico. Passare le chat di gruppo da Whatsapp a Signal è una semplice questione di incollare un link a una conversazione per trasferire gli utenti sulla nuova app. Un'operazione piuttosto semplice e rapida a patto che gli utenti interessati abbiano tutti un account Signal. Una volta attivata l'utenza si entra e si usa l'app esattamente come ogni altra app di chat. Con la sicurezza che gli sviluppatori non raccoglieranno altri dati che non siano il numero di telefono associato all'utente. Whatsapp invece memorizza elementi come seriale del device, sistema operativo, contatti ed e-mail. In Italia, dove vige il GDPR, i dati vengono automaticamente trasferiti a Facebook ed è ciò che non piace agli utenti. Perché però questo rumore attorno all'app Signal? Beh, è arrivato un endorsement molto importante da Elon Musk, il re, indiscusso dei tecnogurus su Twitter. È bastato solo un tweet per rendere l'app la più scaricata degli ultimi giorni. Use Signal, ovvero usate Signal. I risultati sono immediati. Nello stesso giorno del tweet di Musk, la piattaforma di messaggistica ottiene 63.000 download. Il giorno successivo questa cifra arriva a quota 90.000. Il numero di utenti complessivo non è noto, ma dovrebbe aggirarsi attorno a qualche decina di milioni di utenti. Signal è al momento al primo posto tra le app più scaricate sull'App Store di Apple e su Google Play di Android. Quindi Whatsapp o Signal, la scelta comunque resta a voi.